Beculio Molinari è stato un grande amico, eravamo agli antipodi sotto il punto di vista politico, però un grandissimo personaggio che è stato quello che ha veramente concretizzato il futuro della Barcolana come è oggi. Siamo alla 49esima, il prossimo anno pensate alla 50esima, l'ho vissuta per 17 anni da sindaco, per cui è una cosa fantastica, mi ricordo Riviera di Rimini che vinse quando la portai, ero sindaco di Mugia e poi l'ho vinta nel 2002 da sindaco di Trieste, è un grande avvenimento per la città. Trieste è la Barcolana se ci pensate, è un avvenimento straordinario quando si va in giro per il mondo, Trieste è la Barcolana. La novità anche è che siamo tutti insieme finalmente, non ci sono più le baruffe fra bande, si lavora tutti insieme e veramente abbiamo il vento in poppa.